La biblioteca Trisi aderisce alla diciassettesima settimana d'azione contro il razzismo e oggi vogliamo leggervi un brano tratto dal razzismo spiegato a mia figlia di Chahar Ben Credi che io potrei diventare razzista? Diventarlo è possibile, tutto dipende dall'educazione che avrai ricevuto, tanto vale saperlo e impedirsi di esserlo, ovvero sia tanto vale accettare l'idea di essere anche noi capaci, un giorno, di avere sentimenti e comportamenti di rigetto nei confronti di qualcuno che non ci ha fatto niente, ma è differente da noi È una cosa che capita spesso, ciascuno di noi, un giorno, può fare un gesto brutto, provare un sentimento cattivo Quando uno è turbato da un essere che non gli è familiare, allora può pensare di essere meglio di lui, prova un sentimento sia di superiorità sia di inferiorità nei suoi riguardi Lo rifiuta, non vuole saperne di averlo come vicino, tanto meno come amico, semplicemente perché si tratta di qualcuno di diverso